Più di dieci anni di adolescenza passati nel campo tra falci e trebiatrici prima di dedicare il resto della vita alla lavorazione del legno. La storia di Fernando Marchionni, pensionato pesarese di 86 anni, è una di quelle raccontate dagli uomini di una volta, caratterizzate dall'instancabile fatica nel terreno agricolo e dalla manodopera diventata ormai cosa rara. Esperienze di vita che una volta andato in pensione ha deciso di non abbandonare, scavandone ricordi che lo hanno formato realizzando con il legno attrezze agricole in miniatura. Quel legno che ha imparato a lavorare nei quasi 40 anni passati tra Berlone e Scavolini e che ora utilizza per portare avanti la sua passione. Da piccolo, da giovanotto, ho usato questi attrezzi perché ero contadino e quella volta non c'erano i trattori, i motori come adesso eccetera eccetera. Si esceva tutto a mano e questi attrezzi si volevano per forza. Mi sono messo giù così per passare un po' il tempo, la passione c'è, l'esperienza ce n'è abbastanza e faccio questi lavori qui. Dal biroccio marchigiano a due ruote al carro agricolo a quattro ruote. Due mezzi riprodotti fedelmente da Fernando in scala 1-10 indispensabili per i contadini negli anni 50 e 60 dove i buoi venivano agganciati al timone per trainare il carro per il trasporto di fieno e grano. E poi la carriola utilizzata per lo smaltimento dell'etame quando dalla stalla veniva trasportato nel campo e utilizzato come concime naturale per il terreno. Ma anche il carretto per gli ortaggi che veniva trasportato a mano da una coppia di contadini lungo la strada che portava al mercato del paese. Tante piccole opere in legno che Fernando è riuscito a portare a termine dopo ore e ore di cura e precisione. Ci vuole un sacco di tempo perché ci vuole il tempo ad aspettare che asciughi la vernice e il materiale. Il tempo ce ne vuole tantissimo. Bisogna sapere l'idea, bisogna vedere le misure e tutto quanto e incominciare a smacchinare ma il tempo è tantissimo. Riportare alla luce ciò che per tanti anni ha rappresentato la quotidianità dei ragazzi di una volta è il messaggio che il signor Fernando attraverso le sue realizzazioni ha voluto lanciare ai giovani d'oggi. Il messaggio è che io appunto volevo darla a voi in modo che per far vedere ai giovani come si lavorava 60-80 anni fa. Adesso non li fa più nessuno assolutamente, non li usano perché i contadini oramai non ci sono più.